Dolò Caperone è tra le persone che guarda in avanti, pensando agli universitari, con la pastorata universitaria, ma guardando anche con la pastorata digitale, quindi al mondo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, come si dice oggi. Ma dove sta andando Torino, dove sta andando più in generale il Piemonte? Io credo che Torino sta andando là dove sceglie di andare, ma è come in questo tempo si aprono opportunità straordinarie un po' per tutti i territori. Credo che la capacità vera di ogni territorio sia guardarsi nel profondo, guardare la propria anima e saperla mettere a sistema rispetto ai cambiamenti ipocali che stiamo vivendo. Su questo Torino ha, rispetto ad altri territori, un'anima profondamente tecnologica, profondamente innovativa e nello stesso tempo un'anima profondamente legata ai valori dell'umano. E mai come oggi tecnologia e umanità devono parlarsi perché la tecnologia sia a servizio dell'umanità. Ma è possibile questo dialogo? Secondo alcuni, gli apocalittici sono sempre stati, ma secondo alcuni è impossibile che si dialoghi perché più la tecnologia va avanti più l'umanità viene meno. È vero? La tecnologia è l'esito dell'umano, la tecnologia non sbarca su Marte, la tecnologia è l'esito di un processo umano. Quindi tanto più il processo è umano, tanto più la tecnologia saprà incorporare quegli elementi umani. La differenza sostanziale rispetto al passato, per esempio parlando di intelligenza artificiale, è che è una tecnologia che crea un ambiente culturale. Allora è importante che in quell'ambiente culturale l'elemento umano non venga meno. Faccio un esempio molto semplice, se l'efficienza e l'efficacia sono gli strumenti con cui noi giudichiamo tutto, ci perderemo tutto. A cominciare dall'umano che non è sempre efficiente, non è sempre efficace, ma sa amare la macchina o no. E le caratteristiche di Torino per guardare così allo spazio o al digitale, insomma, spesso viene citata tra le città italiane che guarda più verso il futuro. È una città che sa conservare il suo passato, pensiamo a quanto i nostri palazzi continuino ad essere belli come se fossero stati fatti ieri. Ed è una città che nei secoli è sempre stata capace di guardare oltre il confine, ma di guardarlo con uno spirito non aggressivo, non belligerante, ma con uno spirito di conoscenza per capire cosa stava succedendo. Penso ai grandi santi sociali, non sono un prete. La Marchesa di Barolo era una donna che era in grado di guardare al passato, andava in giro nel suo presente per costruire futuro. Lei viaggiava per tutta l'Europa per capire come fare nella sua Torino carità. Questo è l'atteggiamento di questa città e di questo territorio.